Musica Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con a voi la linea Il ministro della cultura Davide Franceschini vuole riaprire cinema e teatri e si è presentato dagli esperti del comitato tecnico scientifico con un pacchetto di proposte. Il comparto è in sofferenza e lotta per sopravvivere. Ci colleghiamo in diretta con l'atelier udinese della compagnia Anatema Teatro. Alessandra Salvatore ha raggiunto il direttore artistico Luca Ferri. A voi la linea. Grazie, grazie Alexis. Buongiorno ai nostri telespettatori. Grazie a Anatema Teatro e a Luca Ferri per l'accoglienza. Non siamo propriamente a teatro ma poco ci manca. Partiamo subito dalle parole del ministro Franceschini. Il settore dello spettacolo è in una situazione non più sostenibile. Al pari della scuola deve essere considerato come un comparto speciale. Diciamo che in quest'ultimo anno ne avete sentite tante di proposte, di progetti, anche di promesse. Queste ultime parole del ministro come le accogliete? Le accogliamo come delle parole che aspettavamo da un anno. Siamo felici che finalmente il ministro Franceschini si sia accorto che il settore dello spettacolo si trova in grave difficoltà. Speriamo che non siano parole gettate al vento come tante altre durante questo lungo periodo che ci ha visto soffrire e che ci vede ancora come teatro soprattutto soffrire a causa di tutti i problemi legati alle chiusure e agli indennizi che non arrivano. Allora, il ministro Franceschini peraltro ha detto che non si parla più di un quarto dei posti a teatro occupabili ma della metà dei posti. Chiaramente queste sono al momento ancora parole. Staremo a vedere. Ma da quanto tempo sono chiusi questi teatri? Beh, diciamo che abbiamo avuto una boccata d'aria l'estate scorsa. Poi i teatri sono praticamente rimasti chiusi ininterrottamente da un anno. C'è solo stato quel periodo estivo che ci ha permesso di fare quelle che sono le rassegne estive all'aperto, ma i teatri poi non hanno avuto più la possibilità di riospitare il pubblico in sala. Cosa che il nostro ministro Franceschini invece non ha notato in altri tipi di teatri. Parlo per esempio delle chiese. Faccio un esempio molto mirato perché in chiesa si svolge il rito religioso e anche in teatro si svolge un rito. Allo stesso modo il pubblico è seduto in sala come nella chiesa è seduto tra le panche. Ora capisco la differenza tra lo spettacolo e la religione, non capisco la differenza tecnica tra le persone sedute in sala e le persone sedute invece nella chiesa. Ne abbiamo sentite tante in questo periodo e lette tante per quanto riguarda anche i protocolli in base ai quali si dovrebbe tornare al cinema, a teatro. Tra le ultime cose che abbiamo sentito, sì certo, mascherine, chiaramente indossate, la distanza di una poltrona tra uno spettatore e l'altro, ma si è parlato adesso anche di tamponi. Sì, diciamo che la nuova proposta prevede che il pubblico faccia un tampone 48 ore prima di venire a teatro, prevede che la compagnia e il teatro faccia un tampone ogni 72 ore, quindi ogni tre giorni, che il teatro metta a disposizione le mascherine FFP2. Insomma ci sono una serie di restrizioni importanti e soprattutto sempre a carico delle strutture teatrali, quindi non un sostegno pubblico anche per esempio dal punto di vista dei tamponi per il teatro e per la compagnia, che nel caso di una compagnia numerosa come quella che noi andiamo a affrontare quest'estate sono delle spese molto importanti. Allora gli aiuti non arrivano, arrivano queste restrizioni, benvengano i controlli e le restrizioni, ma c'è bisogno di un aiuto concreto. Raccontiamo di come avete vissuto quest'ultimo anno, di che cosa avete inventato appunto per sopravvivere. Dicevamo non siamo a teatro ma poco ci manca, perché? Perché è stato un anno di trasformazione, abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Anatema teatro, proprio nel suo modo di vivere il teatro e l'arte teatrale, non ama, diciamo, lamentarsi, perché la protesta un po' sta bene, ma io credo che la forza del teatro sia la forza delle idee. Così abbiamo cercato di creare nuove strade, nuovi percorsi. Abbiamo riallestito qui nel nostro atelier teatrale a Udine un piccolo set dal quale fare i recital teatrali, quindi le proposte online, abbiamo allestito uno studio radiofonico dove mandare in onda i nostri speciali, le nostre trasmissioni sui social e abbiamo iniziato una vera e propria rassegna teatrale di spettacoli per bambini e per adulti, sempre legati all'online e legati allo streaming. Parliamo di prospettive future, come vi state organizzando da qui ai prossimi mesi, in particolare per l'estate? Allora, l'estate è una speranza. Speriamo che con la fine di maggio e giugno si riprenda, si possano fare spettacoli all'aperto. Noi abbiamo una grande proposta per l'estate che prevede la ripartenza degli spettacoli con il nostro spettacolo legato all'inferno itinerante che girerà in tutto il Friuli, il Veneto e la Lombardia, quindi più di 40 date già prenotate, insomma. Quindi ci aspettiamo una grande tournée, una grande ripartenza, con la speranza che poi in autunno si possa riaprire il teatro e possa ripartire la stagione quella effettiva. Ringraziamo molto Luca Ferri e tutta la compagnia Natema Teatro in attesa, insomma, degli sviluppi che tutti quanti attendiamo. Grazie a voi, La Linea. Grazie ad Alessandra Salvatore e a Giornal Domenico Ricci per questo contributo in diretta da Udine. Dopo settimane in zona rossa, diversi saloni di parrucchieri e centri estetici hanno aperto ieri e da oggi hanno riaperto tutti. C'è voglia di normalità, ha detto Loredana Ponta, presidente di Confartigianato del settore benessere, che attraverso una lettera ai sindaci ha chiesto di ampliare gli orari d'apertura anche le domeniche e nei giorni festivi. Abbiamo mandato una lettera a tutti i 250 sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia per avere una deroga sulle aperture. Diciamo che i sindaci già sabato hanno risposto e anche domenica e li ringraziamo vivamente. Abbiamo fatto un bel lavoro e ringrazio anche il presidente Tilatti perché con questa lettera abbiamo potuto aprire il lunedì. Abbiamo delle deroghe fino a 13 ore al giorno. Dai, ce la faremo. C'è voglia di ripartire, di lavorare il più possibile, proprio per recuperare il tempo perso, ma non solo tempo, anche soldi persi. Il decreto sostegni qualche attività, più di qualche attività, non rientra perché deve avere una perdita più del 30%. Qualcuno è proprio poco al di sotto del 30% e questa è un po' una beffa. Comunque anche i ristori dell'anno scorso, se facciamo un calcolo, quello che ha dato l'Inps erano 1.200, ma quando paghi i contributi a maggio 1.100, con 100 euro al mese non vivi. Infatti voi avete chiesto questa deroga attraverso una lettera di confartigianato dove appunto chiedete di tenere aperto, oltre il normale, dalle 5.30 del mattino alle 21.30 della sera, con riposo settimanale facoltativo e possibilità di aperture festive. Dunque c'è la possibilità che centri estetici e parrucchiere possano lavorare anche nelle giornate di lunedì, ma anche di domenica, nei festivi. C'è questa possibilità? Sì, c'è questa possibilità e questa è un'opportunità, però dobbiamo pensare anche che non dobbiamo stressarci troppo perché insomma anche la nostra salute ha un grande valore. Faremo questo perché dobbiamo contingentare gli ingressi, perciò due a testa, e questo due a testa, a rieggiare, igienizzare, dalle maniglie alle poltrone. Lo facevamo prima di adesso, ma adesso siamo diventati addirittura maniacali di questa igiene e di questa sicurezza che noi vogliamo dare. Diciamo che le clienti non hanno assolutamente paura, proprio ho sentito anche i miei colleghi e sono felicissime perché il parrucchiere è l'isola felice. Infatti una mia cliente dice sempre toglietemi tutto ma non il parrucchiere, assolutamente. Si è riunita questa mattina la giunta comunale di Udine, è in corso la conferenza stampa per illustrare le decisioni prese dall'amministrazione, sta seguendo i lavori per noi Isabella Gregorato, a te la linea. Buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri amici telespettatori, sono con l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Oggi si è parlato di bilancio, in modo particolare di introiti che sono chiaramente diminuiti in seguito alla situazione e anche c'è stato un incremento di spese. Però gli introiti sono stati bilanciati anche da altre voci. Sì, allora buongiorno intanto agli spettatori. Sì, oggi abbiamo approvato il rendicontro del 2020, quindi il consultivo 2020, quindi disegna il quadro di quello che è successo fino al 31 dicembre. È stato un anno, quindi abbiamo visto abbastanza difficile, ma nel contempo comunque ci permette ancora di rispettare quello che è il bilancio di mandato. Come detto prima, appunto, naturalmente, diciamo, si vede un calo nella parte delle entrate, soprattutto nella parte delle entrate cosiddette tributarie, dove comunque, diciamo, questo è legato sia all'emergenza Covid sicuramente, ma anche al fatto che comunque c'è stato un differimento dei pagamenti, quindi insomma tutta una serie di provvedimenti che sicuramente hanno inciso su questo. e c'è, naturalmente, anche dal lato della spesa un incremento dal punto di vista della spesa, perché naturalmente maggiori trasferimenti per servizi o maggiori trasferimenti anche per l'acquisto di beni, quindi legati, diciamo, all'emergenza Covid. Ecco, va detto che nel 2020 il Comune di Udine ha effettuato 80 assunzioni, per quanto riguarda personale, numero che corrisponde alle uscite. Esatto, sì, allora diciamo che dalla parte della spesa, una parte, naturalmente, la prima voce è rappresentata dalle spese per servizi e per l'acquisto di beni, la seconda voce è rappresentata dalle spese delle personale, e che quindi sono quasi il 33% nel nostro bilancio, 80 erano le unità assunte, sono state le unità assunte nel corso del 2020, e 80 sono comunque le unità che hanno cessato la loro, diciamo, di lavorare insieme a noi. Bisogna dire però che, insomma, già nel corso del 2021, da quando, dall'inizio dell'anno, sono già state assunte 21 persone. Oggi proprio abbiamo fatto una sorta di resoconto. E con un'ultima cosa, appunto, per chiudere, dal 2014 al 2020 è dimezzato, praticamente, l'indebitamento del Comune. Esatto, sì, diciamo che l'indebitamento del Comune, che si aggira intorno ai 53 milioni di euro, è dimezzato, appunto, dal 2014 al 2020. Il Comune di Udine, diciamo, finanzia i suoi investimenti commuti, ma solamente per l'1%, il resto degli investimenti vengono finanziati in altro modo, con avanzi, con trasferimenti, insomma, con altri tipi di contribuzioni, e la percentuale di interessi, diciamo, pagata è molto bassa, addirittura la norma dice 10% e noi ci aggiriamo intorno all'1,61%. Bene, ringraziamo l'assessore al bilancio del Comune di Udine, Francesca Laudicina. Restituisco la linea allo studio e in caso ci sentiamo fra un attimo per un altro collegamento qui da Palazzo D'Aronco. A voi, studio. Sì, grazie Isabella, tra poco ci richiederai la linea, quindi noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, tra poco. Ben tornati a Da voi la linea, ora andiamo a Derto, dove di notte le campane sono mute e scoppia la rivolta dei parrocchiani che hanno scritto al Vescovo per chiedere di ridare voce al campanile simbolo della comunità. A sottoscrivere la raccolta, firme sono stati quasi tutti gli ertani, oltre 200, compreso il primo cittadino Antonio Carrara. A farsi portavoce della richiesta è Beatrice Sartor, che assieme a Ketty Martinelli ha dato vita a questa battaglia. Allora abbiamo raccolto il loro appello. Da qualche settimana gli ertani, i parrocchiani di Erto, si stanno impegnando uniti in una battaglia per il ritorno del suono delle campane in orario notturno, per il ripristino dei rintocchi che segnano lo scorrere delle ore di notte. Questa potrebbe sembrare una battaglia anacronistica che ha visto, come molti e anche altri paesi, già in passato. Una legge nazionale vuole che sia rispettato il silenzio notturno, che le campane non suonino dalle 22 alle 7 del mattino perché sono considerate come disturbo. Per noi a Erto invece le campane, il campanile, sono un simbolo. Il campanile di Erto sta sullo stendardo comunale assieme alla frana del Vaillant. Sono un simbolo, sono un simbolo della comunità che è ritornata in paese dopo il disastro del Vaillant, dopo lo sfollamento a seguito del disastro del Vaillant. Il suono delle campane, dal ritorno degli Ertani, sono state il simbolo del ritorno alla vita in paese. perché dopo lo sfollamento dovuto al disastro del Vaillant nel 1963, un manipolo di Ertani si è battuto per poter tornare a vivere in paese. Si è battuto perché il paese tornasse dove era e quasi com'era. non hanno voluto andare a vivere in altri paesi creati ex novo come Vaillant o in altre frazioni del bellunese. E quindi per noi il suono delle campane rappresenta la nostra identità, rappresenta la nostra storia, rappresenta quello che hanno fatto per noi i nostri avi. perché per noi quel rintocco è il battito, è il battito del cuore Ertano. Il campanile è il cuore di Erto, le campane sono il battito. Se il cuore si ferma c'è qualcosa che non va in paese. Se le campane tacciono siamo noi Ertani che stiamo in silenzio. Mentre abbiamo fatto una promessa ai nostri avi, a chi negli anni Sessanta è ritornato dopo molte battaglie a Erto. Abbiamo promesso che mai più avremmo abbandonato il nostro paese. I rintocchi notturni per noi sono una compagnia. E il fatto che molti, molti Ertani e molti che hanno comprato casa a Erto abbiano firmato questa lettera che noi abbiamo indirizzato al Vescovo con una preghiera perché si è ripristinato il suono delle campane, il fatto che abbiano firmato quasi tutti i compatti dimostra questa cosa, dimostra quanto noi amiamo il suono delle nostre campane. Ci richiede la linea la nostra Isabella Gregorato, si trova a Palazzo Doronco assieme al primo cittadino. Fontanini a te la linea, a voi la linea. Grazie Alexis. Sono con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, si è appena conclusa la conferenza stampa per illustrare i lavori della Giunta. lavori nei quali è emerso un aspetto per quanto riguarda il Parco del Cormor. Ci sono possibilità, sono forse ancora un po' remote, o a che punto sono? Che il Comune acquisti un'area che fa parte appunto del Parco del Cormor? Sì, le possibilità sono abbastanza concrete perché abbiamo già avuto interlocuzione con i rappresentanti locali dell'Escito. Loro dicono che attualmente la zona che loro occupano che si trova proprio a metà tra il Parco Nord e il Parco Sud del Cormor ed è de manio militare, non è più utilizzata, insomma, non hanno grande interesse a continuare a utilizzare. Quindi, secondo loro, potrebbe essere ceduta al Comune. Ecco che allora oggi la Giunta ha investito il sindaco di aprire i colloqui con le autorità militari per vedere di acquisire questo spazio importante, uno spazio ambientale ancora buono, e quindi ampliare il Parco del Cormor e farlo diventare un tutt'uno. Quindi arrivare dal Cormor Basso e andare su fino attualmente alla Fiera, dove c'è la parte più utilizzata del Parco del Cormor. Ecco, delimitiamo un attimo i confini di questa parte del Parco del Cormor alla quale è interessato il Comune. E quindi se il Comune diventasse proprietario potrebbe fare più facilmente e più agevolmente degli interventi. Beh, degli interventi innanzitutto per mettere alla gente di non più andare su in macchina, come attualmente vanno, ma a partire dal centro città e facendo una corsa, una passeggiata, andare su fino alla zona della Fiera, se è possibile attraversare quest'area che attualmente è occupata dai militari. Sapete che la città di Udine, un po' come tutto il Friuli, era una zona di presenza di militari, quindi adesso abbiamo la possibilità di, non essendoci più questo interesse militare, di acquisire queste aree. Io spero che ci siano buone possibilità di arrivare a un accordo positivo con le autorità militari e quindi di ampliare l'area del Parco del Cormor. Iter lungo? Non lo so. Qualche volta è anche rapido, veloce. Ci sono alcuni passaggi che dobbiamo fare insieme alla Regione con, ripeto, il demanio militare e poi noi siamo pronti anche poi a investire qualcosa all'interno di quest'area, se l'area stessa verrà ceduta al Comune. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per questo suo intervento. Vediamo, ci dovrebbe essere, vediamo se riusciamo a raggiungerlo, anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, che anche oggi ha parlato di diversi interventi in città. Vediamo se riesco a raggiungerlo io, altrimenti ce lo perdiamo. Ecco, Assessore Michelini, mi diceva che oggi avete parlato di alcuni interventi in città, tra i quali anche l'introduzione di nuove colonnine per le ricariche elettriche. Sì, perché voi sapete che la Giunta Fontanini ha come priorità nel programma anche l'efficientamento energetico, oltre alla viabilità lenta e oltre al collocamento all'interno del centro storico di quelle che sono le piste ciclabili che devono collegare il centro con le periferie. Sette colonnine, 25 colonnine dovrebbero essere, con l'accordo che abbiamo, con un raggruppamento di imprese, entro tre anni. Sette le facciamo quest'anno, sono in sette parti della città, cito per esempio Piazza Patercato, Pia Bassi, Piazza Leccella e via dicendo. Altre, per arrivare a 25, lo faremo il prossimo anno. Partirà anche il car sharing, e quindi è ovvio che queste colonnine sono importanti perché il cittadino deve sapere che li trova al posto e c'è la ricarica veloce. Sono da 25 kilowatt, una è da 50 kilowatt. Poi abbiamo deliberato oggi anche il frazionamento di via Est e quindi l'allargamento propedeutico, l'allargamento che verrà fatto in tempi a questo punto finalmente definitivi, possiamo partire con la gara, e anche tutta la fondazione della sponda della Roggia di Palma su via Veneto, perché poi, siccome sta franando il guardrail, dovremmo riposizionare la sponda intera e rimettere la parte protettiva che sta franando, come dicevo prima. Un importante intervento da 160 mila euro perché oggi, come oggi, oltre ad essere indegoroso, è anche pericoloso. Bene, ringraziamo anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, ringrazio Fabio Di Bernardo per le riprese qui a Palazzo d'Aronco, quindi dalla conferenza stampa della Giunta Comunale è tutto, restituisco la linea allo studio. A voi, a te Alexis. Grazie a te Isabella e ai tuoi ospiti. Noi siamo in chiusura, l'appuntamento con A voi la linea è per domani, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16.30. Grazie per l'attenzione e buona giornata a Conte dei Friuli. Grazie a tutti.